Inizio scuola, che si tratti del nido, dell'asile della scuola dell'infanzia, della scuola di meditare questa è la fase di nuovi inizi e quindi con esse le varie nostre perplessità, ansie, preoccupazioni e di riflesso magari anche quelle dei nostri bambini cosa succede quando ce ne preoccupiamo tantissimo cosa succede quando osserviamo dei comportamenti strani nei nostri bambini e come fare ad affrontare questa fase, per il meglio, in un modo di serenità per tutta la famiglia Ciao, sono Clio, fondatrice di Parent Smile & Grow del Summit per l'educazione positiva e dopo un passato in azienda ed essere diventata mamma ho scoperto l'educazione positiva e creato il percorso online per genitori Tempo per Crescere dove accompagno genitori come te a mettere in pratica un'educazione incoraggiante, consapevole e rispettosa in modo sostenibile, cioè compatibile con gli altri ruoli lavorativi e non che ricopriamo in un'ottica di benessere per tutta la famiglia e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sull'inizio, sull'inserimento, scuola in un'ottica di benessere e di serenità un respiro, un sorriso e cominciamo ho ben ritrovati questa un po' la fase settembre qua in Francia dove abitiamo la scuola è già iniziata questa settimana, inizio settembre e immagino in base a dove abiti che sia più o meno la fase la fase delle nuove iscrizioni, nuovi inizi anche per te e per i tuoi bambini e quindi mi sembrava importante affrontare questo discorso perché so per esperienza sia personale sia professionale quanto possa essere una fase carica di tensione, di nervosismo e quindi poi di conseguenza se affrontata con il piede sbagliato quanto si possa prolungare anche poi nei mesi successivi con delle conseguenze spiacevoli a volte anche per i nostri bambini e per noi insomma in generale quindi visto che chi ben comincia è a metà dell'opera vediamo insieme quali sono gli elementi che ci ostacolano e cosa possiamo fare invece per rendere queste transizioni serene tranquille che non vuol dire che non ci saranno eventuali difficoltà ma che sapremo affrontarle con solidità ecco con solidità e osservando il più possibile i nostri bambini sostenendoli il più possibile approfitto intanto per preannunciarti che il mese di settembre sarà ricco di eventi di appuntamenti di novità quindi con anche episodi di podcast particolari quindi stai in allerta e c'è l'allerta tieniti pronta scherzo a parte l'idea è di ripartire alla grande e quindi di insomma ho passato l'estate nelle riflessioni e anche nell'ascolto di un po' di genitori e quindi adesso sono piena di idee e carica e quindi preparati perché ci saranno un po' di appuntamenti interessanti per accompagnarti appunto a vivere al meglio la relazione con i tuoi bambini te ne dirò di più al più presto e troverai le informazioni sia via mail se sei già iscritta la newsletter se non sei ancora iscritta cosa aspetti ci sono un po' di percorsi gratuiti che ti aspettano e e comunque nei prossimi episodi del podcast in modo particolare segnati l'ultima settimana di settembre perché è lì che ci ritroveremo allora partirei da mi fa sempre come dire mi dispiace sempre chiamare le cose cioè usare la parola errore perché non voglio passare l'idea né di un giudizio né di un ideale di genitore perfetto che non esiste ma prendilo davvero come elemento di un comportamento o un atteggiamento o un punto di vista che ci mette i bastoni tra le ruote anziché invece darci una mano nel nostro obiettivo di accompagnare i nostri bambini al meglio di vivere serenamente con loro quindi ecco è giusto per inquadrare il termine che utilizzo e parlo di questo e prendo spunto perché ho ricevuto diversi messaggi diversi commenti adesso che ho un po' ripreso l'attività e che poi dopo la pausa estiva intendo dire poi nei confronti delle mamme che accompagno eccetera e uno degli elementi che emergono è un po' questa convinzione nascosta più o meno non detta o a volte anche detta per la quale i bambini starebbero meglio a casa con noi e mandarli a scuola parlo soprattutto naturalmente del nido e della materna più che della scuola elementare ma questo poi si può ritrovare in formati diversi adesso lo vediamo anche quindi insomma il fatto di doverli mandare a scuola e di dover magari non ritornare a lavoro eccetera è un po' una scelta come dire una scelta obbligata ci sentiamo comunque un pochino di giustificarci e poi poverini e insomma che ci sia qualcosa di negativo diciamo così nel fatto di mandare i nostri bambini a scuola ovviamente poi contestualizziamo e non dico che sia così per tutti però mi è capitato di osservare un po' questo quindi intanto ti invito così a osservare se per caso ti ritrovi in questo o anche soltanto in minima parte sicuramente mi è capitato di ritrovarmici in alcune fasi della mia vita in alcuni momenti e quindi vorrei intanto offrire uno sguardo diverso e su questa su questa prospettiva perché sostengo insomma comunque perché parliamo di atteggiamento che ci ostacola in che cosa ci ostacola vedere la scuola dell'infanzia come un qualche cosa che sì però povero mio bambino starebbe meglio insieme a me o insieme ai nonni o insieme a delle figure di famiglia ci ostacola perché ci mette in una dinamica in cui magari da un lato proviamo a fare di tutto pur di evitare la scuola dell'infanzia il nido oppure ci sentiamo in colpa nel momento in cui magari per x mila motivi questo non sia possibile a volte magari si creano delle dinamiche dove all'inizio ci sono i nonni disponibili poi i nonni però magari non se la sentono non se la sentono tutti i giorni magari economicamente parlando non abbiamo voglia di prendere una una babysitter o una tatata a tempo pieno oppure non vogliamo perché ci sembra comunque una figura estranea e quindi cosa succede che nel momento in cui anche in modo latente non espresso esplicitamente davanti ai bambini noi ci sentiamo in colpa e c'è magari un po' di inadeguatezza quindi nel non riuscire a affrontare a fare delle scelte diverse oppure a volte ci può essere come dire una sensazione di essere vittime di un sistema di dire la società è sbagliata a non permettere alle mamme in modo particolare o comunque ai genitori di poter fare delle scelte diverse e di dover costringere i genitori a tornare al lavoro e quindi i bambini a essere messi in una struttura una conseguente sfiducia in qualche modo nei confronti della struttura stessa delle educatrici o degli educatori presenti il che a sua volta comporta dei bambini che leggono percepiscono questa nostra tensione questa nostra sfiducia e che quindi affrontano in maniera diversa l'ingresso l'ingresso al nido l'ingresso alla materna o l'ingresso anche alle elementari trasporta naturalmente tutto questo nei vari gradini nei vari sistemi possiamo fare lo stesso discorso per le medie ovviamente cambia la percezione che ne hanno i bambini e il modo che hanno di esprimere il loro vissuto però il punto è che finché noi non prendiamo in conto questa prospettiva e questa percezione che noi possiamo avere nei confronti della struttura scolastica o della figura a cui affidiamo i nostri bambini per qualunque motivo non riusciamo a leggere e a prendere in conto questi elementi nascosti e quindi a fare una scelta consapevole la conseguenza ancora quale può essere di tutta questa tensione è che i bambini magari saranno nervosi e quindi nervosismo e tensione vuol dire poi comportamenti che noi leggiamo come di disturbo di fastidio oppure pianti più o meno intensi e questo non fa che accentuare la nostra sensazione di inadeguatezza il nostro senso di colpa se leggiamo questi comportamenti come ecco vedi è l'asilo è la scuola è se io avessi potuto restare a casa o se avessimo potuto fare una scelta diversa non sarebbe così e sia che come dire diamo la colpa alla società adesso parlo termini così in generale o introiettiamo noi questa colpa in entrambi i casi ci sentiamo vittime e questo non ci permette di al contrario di prendere in mano le cose e di fare delle scelte consapevoli per il bene nostro per il bene dei nostri bambini della nostra famiglia ma di subire le cose di avere questa sensazione di subire gli eventi magari ci portano anche a fare delle scelte più radicali come rinunciare al lavoro il che a sua volta ha delle conseguenze soprattutto adesso ogni punto va contestualizzato faccio la mia prima analisi generale poi andiamo a vedere nel dettaglio ok ma insomma questo è giusto per dire che a partire da un elemento che può sembrare minore o di importanza relativa come vabbè che importa la percezione che io ho di questa della scuola o dell'asilo in realtà ci possono essere delle conseguenze nascoste più ampie un po' come i centri concentrici e dietro questa visione questa prospettiva non un po' negativa c'è la convinzione che i bambini stanno meglio con la mamma e qui apriamo il vaso di Pandora e qui parte l'argomento l'argomento delicato che però davvero mi stava molto a cuore affrontare perché si sente un po' di tutto e di più ti propongo e ti offro una prospettiva e l'idea è di provare a vedere l'effetto che fa ok è chiaro che più sono piccoli i bambini quindi neonato ok più sono legati diciamo così alla mamma e anche la mamma la mamma e poi al papà naturalmente adesso c'è un legame come dire fisiologico fisico con la mamma andato dalla gravidanza eccetera eccetera dall'allattamento quindi non rimetto in discussione niente di tutto questo quello che però vorrei mettere in luce è questo i bambini il meglio per i bambini è avere sicuramente dei genitori presenti e sereni sereno e presente è parte della stessa medaglia ok e delle figure adulte di riferimento in grado di rispondere ai suoi bisogni di proteggere di proteggerli di farli sentire al sicuro di accudirli di prendere come dire di consolarli quindi di prendere in conto i bisogni dei bambini ok cosa significa tutto questo cosa voglio dire esattamente la prima cosa fondamentale che penso sia utile ricordare è che i bambini possono avere più di una figura adulta di riferimento di quello che si chiama nella teoria psicologica di attaccamento ok in inglese si chiama hello parenting quello che è stato rilevato è che da un punto di vista proprio dell'evoluzione della specie umana una delle cose in cui ci distinguiamo dagli altri animali mammiferi è che siamo predisposti per avere una sorta di genitorialità congiunta cioè quando si parla del villaggio si intende che era comune negli uomini primitivi avere diverse figure adulte che si occupavano a turno della prole e che i bambini erano nascevano nascono predisposti per potersi affidare quindi per potersi per avere questa relazione di attaccamento con più di un adulto questo non significa che possiamo avere infiniti ok infiniti riferimenti infinite figure di riferimento ma che sicuramente è più di una più della mamma quindi il papà quindi i nonni quindi un educatore un'educatrice di riferimento ok e questo è una cosa importantissima da ricordare perché altrimenti tramandiamo quel senso di colpa alla madre che deve immolarsi alla causa ed essere disponibile per i suoi bambini 24 ore su 24 7 giorni su 7 e dimenticarsi completamente di se stessa e dei suoi bisogni per i primi x anni di vita dei bambini perché altrimenti una cattiva madre rovina i figli e li traumatizza no questa cosa qui non è vera oltre alla mamma ci possono essere altre figure chiaramente se si allatta è la mamma che allatta e che crea quella relazione ma non c'è solo questo ci sono i bambini hanno ben altri bisogni oltre a questo e possono esserci più figure adulte di riferimento che se ne prendono cura in maniera amorevole ok e va bene così non vuol dire che allora la mamma al giorno 1 della nascita del bambino dice ma sì chi se ne frega parto per una vacanza alle Maldive mio figlio lo ritrovo tra due anni non è questo ok però vediamo i due estremi tra un estremo dove io mi dimentico completamente dei miei bambini per poter andare a fare la bella vita e l'altro estremo in cui mi immolo per 24 ore su 24 o 7 giorni su 7 c'è una grande via di mezzo ok e quindi l'idea che vorrei passare è intanto che va bene da un punto di vista appunto di scientifico di predisposizione della nostra specie avere altri adulti che si possono prendere cura dei bambini senza causare traumi e danni ok a patto naturalmente che queste figure adulte si possano rispondere in maniera sistematica consistente ai bisogni dei nostri bambini anche qui potremmo aprire grandi parentesi adesso vorrei restare sul tema perché altrimenti l'episodio dura 6 ore però seguimi un altro elemento che secondo me è importante da considerare quando facciamo queste osservazioni è la come dire la prova scientifica di un'affermazione come è meglio che il bambino stia a casa o è meglio che il bambino vada al nido vada a scuola vada da qualunque altra parte cioè per poter dimostrare qualunque di queste frasi dovremmo prendere dovremmo fare degli esperimenti in cui dovremmo prendere dei gruppi omogenei di bambini cioè omogenei tra loro ed eterogenei all'interno di cosa significa cioè due gruppi dove siano mescolate al loro interno in maniera uguale origini culture livello socio-economico della famiglia e così via e avere come unica variabile il fatto che un gruppo di bambini vada al nido e un gruppo di bambini stia a casa poter valutare negli anni nel tempo come questi bambini crescono e quindi poter dimostrare se l'unica variabile l'unica cosa che cambia è il fatto che siano andati a nido o a scuola o il fatto che siano rimasti a casa in quale dei due casi se c'è una percentuale significativa diversa tra l'uno e l'altro gruppo di bambini che stanno meglio che riescono meglio nella vita questa cosa è impossibile siamo d'accordo è impossibile perché ci sono talmente tanti fattori talmente tante variabili che vanno a intervenire nelle vite dei nostri bambini che non sarà mai possibile determinare che sia stata la scelta di mandarli al nido rispetto alla scelta di tenerli a casa oltre al fatto che tenerli a casa poi dipende anche dal tipo di relazioni che vengono instaurate con le figure di riferimento che si tratta dei genitori dei nonni di qualunque questa sia quindi non sarà mai soltanto questa scelta a determinare in maniera così chiara o così netta il fatto che il futuro dei nostri bambini quello che conta ancora una volta è come viene affrontata questa scelta e in che modo possiamo affrontare insieme ai nostri bambini le conseguenze della scelta qualunque essa sia ed è lì il mio punto di partenza partiamo dall'idea che il meglio è poter coltivare la nostra consapevolezza la nostra presenza la nostra serenità indipendentemente dalle scelte che facciamo ovviamente facendo le scelte quindi in modo consapevole per poter poi accompagnare i nostri bambini ad affrontare le eventuali sfide che la scelta che facciamo per il benessere dei nostri bambini è nostro quindi per il benessere della nostra famiglia comporterà cosa intendo dire all'inizio ho parlato di la cosa migliore per i bambini ne parliamo sempre è la base dell'educazione positiva è avere la presenza dei genitori che cosa significa significa dei genitori o figure adulte che possono essere in grado di capire il punto di vista dei bambini in quel momento il loro bisogno e rispondere mostrare ai bambini ho capito questo è il tuo punto di vista in questo momento questo è quello che stai sentendo sono qui per poter fare questo ho bisogno anche di prendere in conto il mio mondo interiore in quel momento perché se sono presa dal mille pensieri dalla lista della spesa dal fatto che al lavoro le cose non vanno bene dal fatto che non ce la faccio più stare in casa 24 ore su 24 con i bambini e sto sclerando dal fatto che non so con le mie aspirazioni non so più quali sono e non so cosa voglio fare nella vita posso anche essere tutto il giorno incollata al mio bambino ma non sono presente né sono sereno ok altra precisazione essere sereni non vuol dire che dobbiamo essere sorridenti col sorriso 32 denti entusiasti e felici h24 perché siamo esseri umani e questa cosa non è possibile quello di cui i nostri bambini hanno bisogno è questa come dire questa presenza per la maggior parte del tempo per un numero sufficiente di volte e un contatto con la realtà nei nostri confronti cioè man mano che i bambini crescono è anche normale che vengano confrontati con la varietà di emozioni che gli altri esseri umani e quindi anche loro possono provare con degli esempi concreti e sostenibili di come si esprimono queste emozioni di come si affrontano di che tipo di scelte di come queste emozioni guidano le mie azioni e così via anche qui vasto argomento ma resto sulla definizione generale questo che sto dicendo questo cappello introduttivo ha grandi ripercussioni nel nel nostro approcciare la scelta perché se noi ci approcciamo alla scelta dell'inserimento al nido o meno alla scuola dell'infanzia o meno qualunque sia l'ordine di grado con l'idea che stiamo facendo un torto ai nostri bambini in qualche modo è tutta un'altra musica no? rispetto a dire ok sicuramente è importante sapere quali sono le figure che si occuperano dei miei bambini così come è importante prendere in conto il fatto che il sistema in cui ci troviamo le persone di cui si occuperano dei nostri bambini quindi educatrici educatori insegnanti eccetera sono esseri umani anche loro inseriti in un in un sistema in un'organizzazione fatta da esseri umani quindi con dei difetti con dei problemi quello che sto dicendo qui non vuole essere una ma sì non importa il sistema scolastico è perfetto e anzi i nostri bambini sono meglio a scuola no vuole essere invece un attenzione qualunque scelta noi facciamo qualunque opzione noi prendiamo in considerazione per definizione di siamo in un mondo imperfetto e siamo esseri umani imperfetti avranno sempre vantaggi e svantaggi pro e contro sia per noi che per i nostri bambini e tutti quegli ostacoli quelle cose che noi viviamo come ostacolo possono diventare delle grandi opportunità di apprendimento per i nostri bambini quindi per fare un esempio concreto ai bambini certamente se glielo potessimo chiedere o se glielo chiedessimo diranno a parte che non sempre ma in molti casi dicono voglio stare con la mamma no voglio stare con la mamma ma poi dietro il andare in una scuola o in un gruppo in una tata adesso qualunque sia la scelta ci sono delle opportunità no c'è l'opportunità di imparare a stare con altri bambini l'opportunità di creare delle relazioni con altri adulti e quindi di vedere delle modalità anche no di funzionamento diverse rispetto a quelle genitoriali c'è la possibilità di avere accesso a delle attività dell'esplorazione dei materiali diverse rispetto a quelle che possono fare a casa con noi faccio questo parallelo preso dalla mia vita personale e se ti è capitata una cosa simile forse ti riconoscerai ma sono convinta che ti aiuterà quando ci siamo trasferiti in Germania abbiamo abitato per 18 mesi in Germania e abbiamo fatto amicizie creato legami e ci si è posta davanti a un certo punto la scelta restiamo qui o torniamo in Francia dove eravamo prima per tutta una serie di motivi abbiamo scelto di tornare in Francia ma questo non significa che dove stavamo in Germania fosse tutto brutto e dove siamo adesso in Francia fosse tutto sia tutto bello in entrambi i casi c'erano situazioni che ci piacevano di più e situazioni che ci piacciono di meno ok quando siamo tornati qui pur essendo una scelta fatta consapevolmente e con gioia ed entusiasmo ho attraversato e ancora adesso ho dei periodi di malinconia perché ci sono quegli elementi dell'abitare in Germania che qui non ho più che mi mancano le persone delle amicizie delle abitudini dei luoghi delle sensazioni che qui non posso vivere e che ho invece sperimentato e quindi sento proprio questa sorta di malinconia di lutto tra virgolette di dover lasciare andare questa parte questa esperienza questo vissuto per poter accogliere l'altra ora perché faccio questo parallelo semplicemente per dire che probabilmente anche tu hai fatto esperienza se ti è capitato di cambiare lavoro di cambiare casa di fare dei cambiamenti delle transizioni ma anche molto più in piccolo se hai un pomeriggio libero e decidi di andare con le amiche quel pomeriggio non sarai con il tuo compagno o la tua compagna e i tuoi bambini e magari loro faranno una cosa divertentissima insieme e verrà una bella esperienza così come tu con le tue amiche ne vivi un'altra non le vivi in contemporanea devi scegliere una o l'altra in quel determinato tempo in quel frangente di tempo non fa di te una cattiva persona il fatto che tu sceglie l'uno o l'altro né vuol dire niente in termini di affetto che hai per le amiche o che hai per compagno o compagna e figli è la stessa cosa in questo caso ogni scelta che puoi fare quindi di rinunciare al lavoro per stare a casa oppure di chiedere ai nonni di ridurre le ore per stare di più con i bambini di iscriverli in una scuola anziché in un'altra di fare più chilometri per andare alla struttura che ti piace di più eccetera eccetera non so metti tutte le opzioni che hai di fare la scuola a casa l'istruzione a casa piuttosto che tutte le scelte hanno vantaggi e svantaggi hanno pro e contro e per ogni contro c'è un'opportunità nascosta ok quindi l'idea è davvero di poter fare una scelta in un'ottica di serenità per tutti no e di e di avere ben chiaro questi elementi di sapere che qualunque cosa e che questa è una cosa positiva secondo me no qualunque cosa scegli qualunque scelta tu faccia sarà la scelta giusta sarà la buona scelta non c'è non c'è nessun dramma e per quella scelta fatta l'idea sarà come posso accompagnare i miei bambini nell'affrontare al meglio questi aspetti di sfida che mi si pongono davanti rispetto agli inconvenienti della scelta che ho intrapreso quindi per esempio se scelgo di stare a casa e di renunciare al lavoro per poter stare con i miei figli magari la sfida sarà il mio benessere perché occuparsi di bambini 24 ore su 24 senza uno sbocco o altro può essere molto pesante per chiunque adulto che lo faccia quindi la prima sfida è come posso mettermi nelle condizioni di avere comunque uno spazio per me e per nutrire il mio la mia luce e poter essere quindi comunque un genitore presente anche nei momenti in cui magari avrò le energie sotto terra o non ho altri non ho altri come dire altri sbocchi devo prendere in conto questo elemento di sfida come così come prendo in conto gli altri elementi quello economico quello di logistico e così via oppure stando a casa con me non fai esperienza di altre cose quindi come posso compensare eventualmente rispondere a quel bisogno dei miei bambini in un altro modo viceversa voglio sento che stare a casa 24 ore su 24 mi pesa non è il mio sogno all'ilà dell'aspetto economico o meno va bene va bene lo stesso non fa di me un cattivo genitore non fa di me una cattiva mamma è benissimo riconoscere questo aspetto e adesso posso valutare le opzioni che ho a disposizione in quale struttura in che modo posso sviluppare fiducia nei confronti della struttura a cui voglio affidare i miei bambini o di persone a cui voglio affidare i miei bambini come posso manifestare i miei bisogni e i bisogni della mia famiglia al datore di lavoro eventualmente cambiando lavoro insomma ci sono tutta una serie di dinamiche che possono che intervengono in questo senso ma il punto che mi premeva sottolineare è davvero quello di arrovesciare la prospettiva per la quale il meglio dei bambini è stare per sempre con i genitori ni se questo stare sempre H24 con i genitori comporta come dire un sacrificio una rinuncia molto grande per il genitore questo rischia di essere a detrimento della capacità del genitore stesso di essere presente quindi consapevole quindi attento nei confronti dei bambini allora forse può valere la pena dedicare del tempo a sé per una cosa che ricarica che ricarichi il genitore in modo che il tempo che abbiamo a disposizione sia un tempo di vera presenza un tempo di vera qualità potremmo parlare tutto il giorno di questo quindi volevo concentrarmi già su questo aspetto perché credo che ci sia un po' di falsi miti diffusi che possono essere dannosi in modo particolare per le donne ma non solo naturalmente sicuramente i bambini piangeranno quando ci lasciano e anche lì possiamo aprire un altro capitolo su il pianto dei bambini i bambini sono però resilienti sono capaci di affrontare difficoltà così come lo siamo noi l'obiettivo non è creare una vita in cui non ci siano mai elementi di stress in cui non ci siano mai ostacoli in cui non ci siano mai sfide perché questo è impossibile oppure è una vita a cui magari manca un po' l'impatto il senso se non c'è evoluzione se non c'è crescita no l'idea è come possiamo equipaggiarci tutti di risorse per essere in grado di affrontare queste difficoltà senza farcene sopraffare e quindi anche di aggiustare il livello di difficoltà man mano e quindi di andare un po' di pari passo di allenare la nostra capacità e le nostre risorse ad affrontare le difficoltà e quindi aggiustare di conseguenza il livello di difficoltà che affrontiamo questo vale per noi così come anche per i nostri bambini ma a partire già da questo da questa constatazione è importante mettere di fronte ai nostri bambini a delle fatiche non è di per sé un problema quello che conta è poterlo fare con la convinzione delle nostre capacità e delle capacità dei nostri bambini quindi con la fiducia e con la serenità di poter affrontare queste difficoltà in maniera serena e quindi di poterci essere per i bambini cosa significa? che significa che se faccio la scelta di iscrivere i miei bambini alla scuola dell'infanzia nido o quello che è perché per x mila motivi che sono miei nel momento in cui io sono forte e consapevole della mia scelta certo che sarà sarò comunque triste di lasciare i miei bambini certo che i miei bambini saranno tristi di lasciarmi in quel momento e possiamo aprire tanti capitoli per spiegare come mai cosa succede cosa interviene cosa vuol dire poter accogliere i nostri bambini in quel momento significa che nel momento in cui siamo consapevoli della nostra scelta riusciamo ad essere in ascolto in supporto dei nostri bambini senza farne un dramma cioè senza prendere quel pianto come il segnale che siamo dei cattivi genitori che abbiamo sbagliato tutto che siamo inadeguati che stiamo facendo male ai nostri bambini no quel pianto è un elemento di una difficoltà che il nostro bambino sta vivendo osservarla per quello che è ci permette di accompagnare di assistere il nostro bambino ha bisogno di essere consolato sono lì per consolarlo di quali strumenti ha bisogno oppure continuo a osservare è l'indice forse che c'è qualcosa che non va nella struttura nelle persone a cui è affidato interverrò in modo diverso quindi l'idea non è di sminuire il piano di assicchi se ne frega normale ma neanche di farne un elemento che indica che abbiamo sbagliato tutto noi come genitori e questo riesco riesco ad avere questo sguardo di solidità soltanto nel momento in cui ho fatto questo passo indietro e ho rivalutato le nostre scelte prendendo in conto tutti questi elementi spero di averti dato degli elementi utili e degli elementi nuovi ti invito davvero a prendere un momento se ti ritrovi in questa situazione o in qualunque altra situazione di transizione davvero possiamo fare lo stesso discorso per bambini più grandi ovviamente in modo diverso alle medie magari non si metterà a piangere mamma stai con me ma ci saranno ci saranno altre sfide e altri modi in cui il nostro ragazzo o ragazza manifesta la difficoltà o manifesta la sua tensione in quel momento la domanda è sempre di che cosa ha davvero bisogno hanno davvero bisogno i miei bambini che cosa comporta questo bisogno considera a questo e a questo punto possiamo considerare i pro e i contro di tutte le varie opzioni fammi sapere cosa risuona in te quali sono gli elementi nuovi rispetto magari a quello che pensavi o che hai sempre pensato e in che modo pensi di applicare questa visione nella tua vita ti do appuntamento la prossima settimana e ti ricordo appunto di tenerti libero libera perché ci saranno un sacco di appuntamenti interessanti un grande abbraccio e grazie grazie a tutti